Allora intanto, benvenuto a Lempoli, questa di fatto è come se fosse la presentazione che sei parlato dopo la gara di Genova. Ecco, ti chiedo, questo primo blocco di temporale che tu hai vissuto qua a Lempoli da quando sei arrivato, un premissimo bilancio, sia per quanto riguarda la parte sportiva, con quanto di buono secondo me è stato fatto con i quattro punti messi in cascina, ma anche come ti stai provando, come ti stai amalgamando in squadra e perché non anche in città? No, parto dalla mia parte personale, qua a Lempoli mi sto trovando molto bene, mi sono integrato subito benissimo, sia con la società, con lo staff, con i compagni, anche con la città, comunque in parte la conoscevo essendo toscano, sono capitato qualche volta e sì anche a livello di squadra sicuramente molto positivo, abbiamo portato punti importanti, magari qualche punto può mancare, visto quello che abbiamo espresso, però diciamo sono contento, così io penso tutta la squadra e tutta la società perché abbiamo iniziato nel modo giusto. Ciao Leonardo, ti chiedo, naturalmente il bilancio che ti ha adesso, giustamente, adesso arrivano le grandi, come si prepara una partita in base appunto a quello che è l'Empoli per giocare poi anche il postale con la Lazio e come i dati che stanno per arrivare? Ma vanno preparate un po' come tutte, sia le grandi che le piccole, ogni partita ha le sue insidie, le sue difficoltà e certamente bisognerà prendere magari contrapposizioni diverse ma comunque non deve cambiare la nostra identità, il nostro modo di far calcio che è quello che ci deve contraddistingue e quello che dobbiamo portare avanti in tutte le partite. Te ne ti chiedo due cose, sei entrato tu sul fatto che comunque sei un toscano, da toscano che effetto ti fa tornare a giocare comunque quella che è la tua terra, cosa di Empoli conoscevi e sapevi e poi ti chiedo se ti piace giocare in questi Empoli, che è un modo molto bello, fluido, ti fa partire da una nuova dal basso, palla a terra, si gioca a calcio. Sì, sul modo di giocare mi piace, è quello presso che facevamo l'anno scorso con la Samp, comunque è un'identità ben precisa, è quella di comandare la guara, giocare palla, diciamo farsi sempre vedere, quindi su questo modo di far calcio mi trovo molto bene, mi piace per quanto riguarda tornare in Toscana idem, è bello perché comunque sono vicino a casa e diciamo fa parte del mio passato perché comunque da piccolo sono stato vicinissimo qua a venire a Empoli, poi per comunque per far meno strada, anche per gli studi scelsi la Fiorentina, però comunque diciamo è stato un appuntamento rimandato e quindi sono contento adesso di essere qua. Per far meno strada non hai da scusa, eh? Sì, no, per far meno strada, che comunque gli studi dovevo comunque studiare, alla fine chilometri di differenza ci sono, per cui è stata una scelta più comoda. Senti, invece l'impatto con la città come è stato tra le buone popolazioni empolese? No, bene, diciamo alla fine si sta bene, una città tranquilla, comunque ho preso casa da pochi giorni, ma comunque la sto vivendo molto bene, è tranquilla, è familiare, si sta bene. La diventità in qualche modo stilta e convinta a scegliere Empoli e quanto magari in questo ha influito anche appunto, tu l'hai detto, il fatto che con la Sante di Giampaolo, il modo esplicolare, non soltanto nel modulo tattico, ma anche nel modo di interpretare la partita e poi così, se te uniscono domande, ti chiedo anche cosa ti aspetti dalla partita che vivremo domenica contro una grande del campionato, forse la prima grande che andiamo ad affrontare questa Lazio, o realizzare una vittoria con una partenza così così, che gara ti aspetti? Allora no, mi ha spinto qua, mi ha spinto sia il direttore Piccini che è comunque venuto qua l'anno scorso e sia anche la storia dell'Empoli che comunque ha sempre saputo far calcio e con i giovani che sono arrivati qua hanno fatto, se non tutti, quasi tutti bene, si sono espressi tutti al meglio, quindi per crescere e migliorare penso sia la piazza giusta, oltre che il gioco espresso che comunque nel corso della storia è sempre stato un marco importante. Per quanto riguarda la partita di domenica, sicuramente è difficile, affrontiamo un avversario di livello, una squadra forte, penso sotto tutti i punti di vista, l'anno scorso mi ha veramente impressionato, una squadra che ha fisicità, attacca la profondità, è forte, per cui non sarà per niente facile, però giochiamo nel nostro stato in casa e dobbiamo cercare di fare una grande prestazione. Palazzo è un grande avversario, naturalmente però non è partita benissimo, un po' così e così, ha avuto anche molte chiacchiere di mercato nel corso dell'estate, sono stati tanti problemi, qualche discorso di tocco magari fra società, il allenatore ti chiedo se tutto questo magari può essere a beneficio dell'Empoli o no? Le prime partite magari sono sempre un po' strane, uno arriva da un periodo di preparazione, ci sono giocatori magari nuovi che si devono integrare, sicuramente penso una squadra forte che ha giocatori importanti, di questo non le possa risentire, per cui troveremo penso l'avversario pronto e che verrà qua per far punti. Senti, in ultimissima, giochi in una posizione, in un modo particolare che mi sembra ormai sciolina da tantissimi anni, che ha fatto grandi tanti calciatori, a partire dal Milco Valdifiori, passare a Leandro Paredes, ma anche lo scorso anno Castagnetti ha fatto molto bene, ti chiedo se ti responsabilizza giocare lì e magari anche pensando a chi ti ha preceduto e tra l'altro già chiesto anche a Genova, te lo richiedo, se quella è la tua posizione preferita, cioè è lì che tu riesci a dare il tuo 100%? Come ti avevo detto a Genova, io sono nato sempre in un centrocampo a due e quindi facevo uno dei due interni, giocando a tre mi provò Montella davanti alla difesa e feci l'esordio là in Europa League e poi comunque l'anno scorso il mister Giampaolo mi ha impiegato là e quindi è stato un anno di transizione molto importante dove sono cresciuto molto e quindi direi adesso in un centrocampo a tre mi vedo vertice passo davanti alla difesa e insomma nomi importanti sono passati da qui che hanno fatto molto bene, questa è una cosa bella che mi dà fiducia e mi inorgoglisce e io sono qua per migliorare ogni giorno e dare il mio massimo.